Hong Kong invece ha attuato la quarantena dura per chi arriva da fuori, braccialetti elettronici, isolamento controllato e oggi ha un numero di contagi ad una sola cifra. Le precauzioni rimangono, scuole chiuse e classi di musica solo così, su camion speciali disinfettati, ma col tepore primaverile si può ormai passeggiare al porto, distanziati quel che basta, pescare e godersi il sole.